Amici, amici di Mea Shopping bentornati, una grande, una grande offerta anche oggi. Vi ricordate le pentole, queste aeree, quelle cinesi? Sono andate a Ruba, è incredibile. Vi ricordo le prime dieci telefonate si porteranno a casa il cappellino originale studato di Leonardo Menicucci, ma solo a coloro che telefoneranno al numero in sovraimpressione. Bene, oggi però siamo, vedo delle cose inquietanti, oggi siamo a proporvi la bicicletta. Voi vedete solo il sellino, ma ora grazie all'intervento. Barbara, vieni un attimo a prendere, vieni Barbara, vieni. Guardatemi le bellina Barbara, mi so che si vede, ecco, si vede abbastanza, via. Vai a prendere, ecco, porta la bicicletta nel, ecco, questa è l'immagine che io preferisco di Barbara, tutto questo è Mea Shopping. Allora regia, mi date l'esterna 2, grazie. Eccoci qua, Barbara è appena arrivata nell'esterna, ecco, come potete vedere nello studio bianco, e ci fa vedere questa meravigliosa mountain bike, bravissima anche con la mano, ma che meravigliosa, incredibile, ha fatto un corso. Bene, vedete, vedete, questa non è una mountain bike normale, innanzitutto c'è il fantastico cambio Shimano, no? Che è quello ci potete andare anche in montagna. Perché? Perché è Shimano, potete anche sciarci insieme, brava, farlo vedere, farlo vedere, farlo vedere, bravissimo. E poi questa è una mountain bike pieghevole, infatti come la Barbara si piega in un secondo, è meraviglioso, è meraviglioso. Prima dieci telefonate anche per voi, il fantastico cappellino di Leonardo. Domini Cucci sta andando a ruba, perché ormai ha lanciato una tendenza incredibile, una tendenza incredibile, solo su me a shopping e lo shopping che piace a te, ma amiche, mamme all'ascolto, per il vostro Natale, per il Natale del vostro figliolo, non sapete cosa regalare. Allora, io vi dico, vi siete accorti di nulla? Guardate la scenografia, vi siete accorti di nulla? No, perché c'è una cosa magica, oggi vi faccio vedere una cosa magica, e non ve ne siete accorti, scommetto. Signori, guardate, dietro di me c'è un omino che è nascosto, grazie al mantello dell'invisibilità. Il mantello dell'invisibilità, signori, è arrivato ora ora dall'America, mostriamo il volto dell' omino dietro, si faccia vedere, vedete, vedete che c'è una mano, ma anche la faccia che vuole vedere, perché non sarebbe male, eh? Vediamo, eccolo qua, eccolo qua, guardate, un secondo, eh? E poi sparisce. Pensate ai vostri figlioli, quando Giovan a nascondino gli amici, con quest'affare spariscano e vincono sempre loro, regalate, regalate un mantello dell'invisibilità al vostro bambino per Natale, signori, e vinceranno sempre a nascondino. Eh vabbè, ti piace vincere facile, ti piace vincere me a shopping, un buon Natale, Galdo, ciao! Ciao, Barbara, saluta anche te, saluta anche te. Saluta, ah, guardate il bel saluto, guardate l'eleganza, io veramente, eh, sento il Natale proprio dentro, eh, no? Sento il Natale proprio dentro.